riapre la sacile gemona del friuli ma con una piccola fragatura i treni saranno infatti fino a maniago se non alcune coppie prolungate su gemona e non ci saranno più i treni di collegamento con udine e pordenone la linea dunque riapre ed è una notizia positiva ma ci auguriamo che la linea in questione venga valorizzata dal momento che la sua riapertura come state vedendo e ascoltando mostra molte carenze ci aspettiamo anche che il servizio venga promosso a dovere per incentivare l'utilizzo del treno speriamo che un giorno anche questa linea torni ad avere un collegamento con udine e pordenone oltre ad essere ripristinata nella sua completezza confidiamo e speriamo di far bene nelle istituzioni